Preside, siamo al primo giorno di scuola, anche qui all'Istituto Gravina, che per lei è una nuova sede. Sì, per me è una nuova sede, anche se in realtà è un ritorno, avendolo già frequentato sia come studente e poi come docente. Quindi ho lasciato nel tempo un pezzettino del mio cuore, si sono create le condizioni per, quindi ho assunto con emozione anche questo nuovo incarico. Come è iniziato questo nuovo anno, tutto in regola, Green Pass per studenti controllati, insomma, secondo quello che ci viene detto dal Governo? Allora, per ciò che concerne la normativa di riferimento, con le norme anti-Covid, assolutamente sì, quindi Green Pass per tutto il personale scolastico, L'ultimo decreto legge, il numero 122 del 10 settembre, quindi lo chiede, necessità anche per chi accede ai locali scolastici, anche per i genitori. Stiamo procedendo quindi con la verifica, anche limitando ovviamente, in questo chiediamo anche la collaborazione delle famiglie, limitare al massimo gli accessi a scuola e per tutti i rapporti anche con la segreteria, utilizzare quindi in quel caso messaggi mail, anche telefonate. Quanti sono i nuovi alunni di questo istituto? Quante classi e soprattutto c'è questa passione per la musica, per l'insegnamento, per tutti quelli che sono i settori del Gravina? Allora, sono cinque indirizzi, attualmente l'istituto conta 860 alunni. La popolazione scolastica risponde ovviamente per un'offerta formativa assolutamente di qualità, quindi abbiamo il liceo linguistico, scienze umane, economico e sociale, il liceo musicale e l'ultimo il liceo coreutico. In questi due anni diciamo che si è pagato un prezzo alto, in termini anche per ciò che concerne alcuni indirizzi nello specifico, e chiaramente si fa fatica anche per quanto riguarda l'orientamento in entrata e in uscita, e viste comunque le difficoltà legate all'emergenza pandemica. Quindi è tutto a posto, siete tranquilli, finalmente si è tornati alla didattica in presenza? La didattica in presenza sì, questa mattina facendo un primo saluto nelle classi dei ragazzi che abbiamo ovviamente anche noi scaglionato le entrate con due gruppi per biennio e triennio, condividevo con loro questa necessità, non era tanto un augurio per la frequenza in presenza, ma una promessa, quindi un impegno, un impegno che deve essere necessariamente condiviso tra il corpo professionale e per l'intera comunità educante, quindi anche per quello che riguarda l'atteggiamento degli alunni, dai più grandi, che sono anche un esempio per i più piccoli, fino all'intera comunità educante, che comprende anche le famiglie. Ovviamente rispetto di quelle regole che ci daranno la possibilità di restare in presenza, quindi di continuare ciò che è stato interrotto drasticamente ormai un anno e mezzo fa. Non è tutto in regola nella misura in cui, chiaramente questa è una struttura che paga un prezzo da sempre, oltre 60 anni sul territorio, relativamente quindi anche a una struttura che possa comunque, con la quale possa riconoscersi come scuola. Si sta lavorando anche con l'ente locale perché ciò possa essere ripristinato nel più breve tempo possibile. Quello che vogliamo sicuramente è non perdere questa opportunità offerta anche da PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per in qualche modo riuscire a rivendicare quello che è un diritto che possa garantire quindi lo studio e ciò che viene ribadito anche dalla nostra carta costituzionale.